Grazie Presidente, concordiamo sull'urgenza di molte delle opere incluse in questo emendamento, ma non concordiamo sulle modalità di finanziamento, in particolare sull'attunzione di nuovo debito per 60 milioni di euro. Annuncio quindi il nostro voto contrario nel caso rimanga questo ricorso a nuovo debito in una situazione che reputiamo assolutamente critica, come quella del nostro bilancio. Per il resto ricordiamo che se si giustifica come l'unico modalità per realizzare queste opere è il ricorso a nuovo debito, siamo assolutamente contrari e ricordiamo tra le tante che ricorderemo nelle discussioni di questi emendamenti, le spese inutili come i costi di accelerazione sulle opere collegate ad Expo a partire da quelli di M5, cioè i 79 milioni che pagheremo come Comune di Milano per chiudere i cantieri 5 mesi prima. Ai cittadini non credo che cambi nulla avere 5 mesi prima la metro, ma alle casse del Comune sì per 79 milioni. Questo era uno dei modi per finanziare questa opera senza ricorrere a nuovo debito. Grazie.